quando mi vuoi che vieni il grumace e dicevi che si calma, non dovete fare bene, facete bene, dai che si sono guarda, è stata calma, è sorridato 60 volte ci sono 60 volte ci sono 60 volte ci sono e non ci sono e non ci sono e non ci sono non ci sono 60 volte che vieni a fare no Ugo? e chi è? 60 volte non hai detto più ma ancora no non hai sbagliato a contare, non hai sbagliato. Ma hai fatto 12, ti hai fatto 6, 7, 43, 15 volte non tornare sei il colpirone sei il colpirone sei una quarta sei una forte matematica non mi trovo, non mi metto l'orloio per lavorare, e c'è fin, fatto fatto che non avevo Magnato, e ti ho Vitato a me, con il Colistirolo! Fai il cartongesso, dici il colistirolo e dopo il cartongesso! Sì, ho detto... Lo dici noi... Bravo, grazie a te. Sì, non ti riesci tutto con qui. Hai ragione? Sperché la mente che hai la tiappella via e ci dici... La tiappella? Sì, che la tiappella è dretta io... Non vengono le occhiate, ebbè. Un colpo un po' stretta, eh? Non ti fa il mone, eh? Ti stai scom... Non puoi schiampare con me. Ti fa il mone... Sì, è nato non io. No! Accetto! Magari... Amone, non siete d'accordo che vengo ora?